Come ti chiami? Mi chiamo Filippo E quanti anni hai? Ne ho 25 E' la prima volta che partecipa alla corrida? No, ho partecipato già altre volte non qui a Pratola, in altri posti ma ho partecipato Bravo! Cosa ci presenti questa sera? Questa sera faccio il mio cavallo di battaglia che faccio nelle corrida dove vado ed è per l'amore di Massimo Raniere Una grande canzone! Beh, noi ti facciamo un bocca al lupo Ci saluti Campania Tubo? Grazie!